Due persone ferite di cui una donna trasportata in codice rosso all'ospedale in via San Leonardo. E il bilancio dell'incidente stradale è avvenuto in Nitorania a Ponte Gagnano. Uno scontro frontale tra due vetture, una Citroen C3 che viaggiava in direzione Salerno ed una Fiat Panda che procedeva in direzione opposta. Sulla prima auto era a bordo una donna 53enne di Bosco Reale. Ad avere il peggio è stata proprio lei che nell'impatto ha riportato ferite e contusioni in varie zone del corpo. La malcapitata è stata subito trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno dagli operatori del 118 ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunte due ambulanze del VOPI di Ponte Gagnano. Le condizioni cliniche della conducente della Fiat Panda, una donna di 79 anni originaria di San Giorgio a Cremano non destano particolare preoccupazione, ma si è reso comunque necessario il trasporto all'ospedale di Battipaglia a bordo della seconda ambulanza del VOPI. Coinvolta in maniera marginale una Volkswagen Fox che stava transitando sulla strada litoranea nel momento in cui si è verificato l'incidente. Sul logo del sinistro sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Ponte Gagnano-Faiano diretti dal comandante Franco Naccetta, con loro i vigili del fuoco di Salerno per estrarre i feriti dalle auto.